Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. È morto la notte scorsa all'età di 87 anni Benigno Luigi Papa, arcivescovo emerito di Taranto e vescovo della diocesi ionica dal giugno 1990 al novembre 2011. Era entrato in coma nella mattinata di giovedì nella sua residenza di casa San Paolo in Lanzo di Martina Franca, luogo da lui scelto come dimora al termine del suo ministero pastorale per raggiunti limiti di età. Nelle ultime ore le condizioni di salute di Monsignor Papa si erano aggravate. Nella giornata di ieri Monsignor Santoro ha amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi. La camera ardente è stata allestita nella chiesa inferiore della concattedrale Gran Madre di Dio. Le esecue saranno celebrate domani 7 marzo alle ore 16 nella stessa chiesa. Sono 82 nuovi casi di Covid in Puglia su 2.522 test giornalieri secondo il bollettino del 6 marzo. Non si registrano decessi. I nuovi casi nella provincia di Taranto sono 14. Sono 2.874 le persone attualmente positive in Puglia, 92 quelle ricoverate in area non critica e 4 in terapia intensiva. Incontro informale questa mattina nella sede di Confindustria Taranto tra gli onorevoli Vito De Palma e Giovanni Maiorano e il Consiglio Generale la sezione metalmeccanica e navalmeccanica. Al centro del confronto il DL del febbraio 2023 misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. Ma diciamo che noi ci auguriamo che in questa direzione siano ristorate le aziende dell'indotto. Perché è una cosa importantissima e noi vigileremo per questo. Ma l'incontro di oggi è perché è giusto che i parlamentari dopo appunto che il decreto è stato convertito in legge avessero l'opportunità di dialogare con i nostri associati, con gli imprenditori e soprattutto quelli dell'indotto. E quindi di conseguenza noi volevamo manifestare che siamo convinti che questo sia un punto di partenza e stiamo lavorando sull'accordo di programma e naturalmente siamo cautamente ottimisti. Dico cautamente perché è giusto che essendo un punto di partenza ci auguriamo che in futuro questo possa essere la volta buona, che si vada avanti per far sì che a Taranto finalmente ci sia l'acciaio green. Il governo ha accolto un ordine del giorno, ha accolto in parte un ordine del giorno che abbiamo a mia prima firma ma che poi hanno sottoscritto tutti gli altri parlamentari di coalizione del centro-destra che comunque impegna il governo alla presenza del sottosegretario comunque ad avviare tutte quelle procedure che avranno il fine di tutelare le aziende dell'indotto, quindi il nostro territorio. Quindi se non è stato approvato, se non è stato modificato in sé il decreto, perché poi comunque c'è anche da dire un'altra cosa che su quanto riguarda l'amministrazione straordinaria la paura non è l'amministrazione straordinaria che è giusto che sia prevista, ma è quella di tutelare che le aziende non possano ritornare a subire un torto che hanno subito già diversi anni fa, quindi l'importante delle aziende, l'importante per il nostro territorio è che chi effettivamente lavora sul territorio, chi si spende per il territorio venga giustamente ripagato. No, come ho sempre sostenuto questo è un decreto che guarda in prospettiva perché pone una pezza a quello che purtroppo era accaduto e quello che si è trascinato nel tempo sulla questione Taranto, ma soprattutto pone le basi per un programma di investimenti che guarda al territorio, che guarda al futuro, che guarda alle imprese, che dà una risposta anche a livello occupazionale ed in particolar modo guarda in maniera diversa rispetto al passato perché guarda un'industria green, un'industria che sia compatibile con l'ambiente, chiaramente con un percorso anche abbastanza importante, non certamente a breve, ma è un percorso sul quale il Governo vuole mettere tutte le proprie risorse in campo perché crede fermamente in questo tipo di discorso. Ancora una denuncia da Vera Lix, stavolta la questione attiene la zona Chiapparo dove insiste la stazione navale della Marina Militare. L'attivista Luciano Manna attraverso il suo sito ha segnalato alle autorità sostanze schiumogene provenienti da un tubo prospiciente alla recinzione della base navale. Non fa presagire nulla di buono la presenza di barriere galeggianti poste proprio davanti. Lo scarico, aggiunge l'attivista Vera Lix ha inviato il video alle autorità atte al controllo delle acque affinché sia appurata la natura dello scarico e sia scongiurato l'eventuale interessamento da parte di sostanze nocive agli allevamenti di mitili. Ad una settimana esatta dal naufragio di Crotone in cui sono perite in mare oltre 70 persone tra cui un bambino afgano di tre anni, nella mattinata di ieri diverse associazioni tra cui Oana, Mediterranea Saving Humans si sono incontrate presso la concattedrale San Madre di Dio per una veglia religiosa. Un momento di raccoglimento in preghiera per ricordare le vittime innocenti delle politiche migratorie e riflettere su come agire e proseguire. Siamo qui per ricordare le vittime della strage di Crotone e tutte le vittime dei naufragi che ci sono nel Mediterraneo. Queste vittime sono persone che non dovevano morire, potevano essere salvate e noi abbiamo pensato qui a Taranto di organizzare una veglia di preghiera interreligiosa in memoria di tutte le vite perse nel Mediterraneo. Il nostro principio dell'associazione è prima si salva e poi si discute. Salvare vite viene prima di tutto. Questa tragedia poteva essere evitata, come ho già detto, e doveva soprattutto essere evitata. C'è stato un vuoto nel Mediterraneo, in questo momento c'è un vuoto, perché tutte le navi delle ONG che sono atte a salvare vite umane non ci sono in mare, sono ferme e non ci sono altre vie di salvataggio. Diciamo che tutte queste persone che si mettono in mare lo fanno perché non hanno un'altra scelta. Se ci fosse la possibilità di avere vie legali per arrivare e potersi muovere liberamente all'interno degli Stati sarebbe l'unica cosa giusta da fare. Chiediamo semplicemente che ci siano vie legali, che le persone possano avere libertà di movimento e che le frontiere non esistano o quantomeno che i passaporti siano uguali per tutte le persone sulla faccia della Terra, non soltanto per la parte occidentale del mondo ma per tutte le persone. Quasi 7.000 visitatori in un solo giorno distribuiti in quattro luoghi della cultura pugliesi, il Martà da un lato e tre siti afferenti alla direzione regionale Musei Puglia dall'altro. E il direttore regionale Musei di Puglia, delegato dal direttore generale Musei Massimo Osanna, la direzione del Museo Tarantino Luca Mercuri, a commentare lo straordinario successo di presenze registratosi ieri. Migliaia di persone in fila per visitare il Martà, 2.432 visitatori infatti ieri hanno approfittato della gratuità offerta nelle prime domeniche del mese in tutti i siti culturali italiani e hanno scelto Taranto arrivando da fuori città ma anche da fuori regione. Anteprima mondiale al Cinema Teatro Orfeo per il film Disco Boy del regista Tarantino Giacomo Abruzzese, presente in sala con l'attrice, artista e attivista della costa d'Avorio Letizia Cai. Un film innovativo, Disco Boy parla di guerra ma il racconto esce fuori dai canoni di genere. Per questo importante appuntamento la conduzione è stata affidata al noto critico cinematografico Massimo Causo. Penso sia un film molto atipico sulla guerra, un film dove l'altro esiste pienamente, non è semplicemente vittima o nemico, non esiste soltanto un minuto ma ha diritto pienamente alla sua storia e alla stessa dignità emotiva diciamo. Il film esce in sala il 9 e quindi spero che il pubblico possa scoprirlo in sala quando il film uscirà in tutta Italia. Finisce 0-0 la sfida del Partenio tra Giuliano e Taranto, partita vara di emozioni con le due squadre che si dividono la posta in palio ed anche il dominio del campo, sul quale gli uomini di Capuano si lasciano preferire nei primi 45 minuti lasciando poi il passo ai giallo-blu di casa nella seconda frazione di gioco. Il forfè di Crecco spinge il tecnico a ripiegare sulla briola mentre dall'altra parte Giuseppe Lamonica e Walter Zullo guidano la batteria degli ex. La verve della gara sembra essere nei piedi dei rosso-blu che però riescono a rendersi pericolosi solo in una circostanza. Su azione d'angolo quando Sassi sbaglia l'uscita ma la biola e il romano si ostacolano e la sfera finisce alta. Nella ripresa meglio i padroni di casa, Rizzo che ci prova su calcio franco trovando l'opposizione sicura di Vannucchi e poi ancora sull'asse Salvemini-Rizzo con il fantasista che ci prova in acrobazia mancando però il bersaglio grosso e consegnando agli almanacchi l'ennesimo pareggio ad occhiali del Taranto di Capuano. Tanta rabbia e amarezza per il quarto K.O. consecutivo in casa a Cussionico, basket Taranto. La squadra di coach Olive cede soltanto 75-74 contro la Lio Filkem-Roseto al termine di una contesa combattutissima e con grande intensità. Il rosso-blu hanno provato in tutti i modi a risollevarsi dopo le tre sconfitte consecutive ma una tripla dubbia di Amoroso a quattro secondi dalla fine spezza le gambe alla compagine Cussina decretando il quarto K.O. di fila. Una gran partita giocata dal Cussionico Taranto che ha tenuto testa per 40 minuti in tutto e per tutto a una delle squadre più in forma del torneo. Seconda in classifica, sole due lunghezze da Ruvo e dalla Luiz Roma eppure Taranto ci ha messo cuore grinta oltre a tattica e tecnica e ha retto la forza d'urto di Nicolic, Santiangeli e Amoroso rispondendo colpo su colpo con i 23 di Corral, 19 di cena e 15 di un ritrovato Bruno capaci di trascinare i compagni fino a un epilogo amaro col canestro di Tato Bruno del 72-74 a pochi secondi dalla fine ribaltato da Amoroso, un K.O. che fa male per come è arrivato ma che non cancella la prestazione rosso-blu. Tutto rimandato all'ultima giornata, il discorso per la salvezza in Superlega. La gioiella Prisma Taranto non riesce nel miracolo e cede con un secco 0-3 contro i campioni del mondo della Sersafeti Perugia. Una partita quasi mai in discussione con gli Umbri che hanno avuto le redini del gioco per tutta la gara. Gli Ionici hanno dovuto fare nuovamente a meno di Stefania Lepki ma nel match del Palamazzola tutto esaurito per l'occasione. La formazione guidata da coach Anastasi parte col piede giusto e porta subito a casa il primo set per 23 a 25. La gioiella Prisma Taranto prova a reagire ma il divario tecnico tra le due squadre è evidente con la Sers che conquista i successivi due set per 19 a 25. Domenica prossima l'Allianz Cloud di Milano basterà un successo a T-Break contro i Lombardi per ottenere la permanenza in Superlega. Finisce a reti bianche la gara del 21 settembre Franco Salerno tra Matera e Martina Meglio e i ragazzi di Pizzulli capaci per buona parte della contesa di chiudere nei propri 30 metri i Lucani ma che numeri alla mano hanno rischiato almeno in due circostanze di capitolare devono ringraziare prima Figliola e poi la scarsa vena realizzativa di Piccioni. Il tecnico Martinese risparmia ancora una volta ancora scegliendo di gettarlo nella mischia a partita in corso ma piazza in campo qualità e freschezza garantite da Pinto Mangialardi e Diaz è proprio l'argentino al quinto a sollecitare Suma con una sventola da fuori ben parata dall'estremo difensore materano. Alla mezz'ora Piccioni mette dentro ma è tutto fermo a causa di una posizione di fuorigioco dell'attaccante mentre ad inizio della ripresa sono gli ospiti a gridare al gol quando Cerutti ci prova sul calcio franco ma Suma soffia sulla sfera che termina sul fondo. A 10 dalla fine ci prova ancora Piccioni che però tu per tu con Figliola ne esalta i riflessi siglando il certificato di autenticità su un pareggio che avvicina le due compagini ai rispettivi obiettivi.